Provate a fischiettare, vedrete che il lavoro più leggero vi sarà, provate a canticchiar, un semplice motivo sempre allegri vi terrà, cantando prenderò la scopa e dopo un po', invece di spazzare e di ballar con lei mi sembrerà, se voi cantate e fischiettate il tempo volerà. Provate a fischiettare! Grazie a tutti!